ciao e benvenuto in facile sommelier il programma che ti insegna tutto quasi ciò che ruota intorno al mondo del vino nel prossimo video vedremo cosa dovremo bere in base al luogo in cui ci troviamo dando quasi completamente spazio ai vini del territorio così se vi trovate per lavoro per vacanza in italia o all'estero avrete un piccolo aiuto sia al ristorante sia nel caso di un acquisto vi sembrerà un elenco un po lungo ed arido ma non vi preoccupate non dovrete guardare il videocorso ogni volta infatti in allegato al videocorso c'è un elenco dettagliato in pdf che potrete consultare sul vostro telefonino iniziamo dunque dall'italia iniziamo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.